Un infoday che avete voluto per dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi alle vostre attività ma soprattutto di conoscere questi progetti. Vogliamo allora dare delle informazioni utili a tutti quei giovani che vogliano presentare le loro candidature per partecipare al servizio civile? Sì, allora è possibile partecipare e fare la domanda in un solo progetto, ce ne sono tantissimi, dalle piccole biblioteche all'assistenza anziani, disabili, ce ne sono veramente tanti e per tutti i gusti. Le domande scadranno il 28 di settembre alle ore 18, quindi è possibile consegnarle sia a mano o tramite PEC, però la PEC deve essere intestata al ragazzo, oppure tramite raccomandata. Abbiamo 221 posti in tutta la provincia dell'Aquila e anche alcuni posti nella provincia di Teramo. Per qualsiasi informazione oggi è la giornata giusta per dare tutte queste informazioni ai ragazzi e poi comunque potete sempre trovarci nei nostri sportelli in modo tale che possiate chiedere cose un po' più specifiche sui singoli progetti. L'età per partecipare? Dai 18 ai 29 anni non compiuti alla data della presentazione del bando. Sono 40 progetti più uno speciale, diciamo così, tanti anche per l'inclusione, in generale a cosa si rivolgono? C'è anche un coinvolgimento molto forte quest'anno dei comuni? Sì, ci sono tantissimi progetti sia nei piccoli comuni che in tantissime associazioni. Le associazioni sono associazioni che si occupano di assistenza sociale prevalentemente, quindi sì, c'è il disagio adulto, ci sono progetti sulla povertà, quindi ce n'è davvero per tanti e vi invito a leggere singolarmente le schede dei progetti in modo tale che possiate scegliere quello più adatto al ragazzo. Debora rappresenta un esempio concreto perché ha fatto il servizio civile. Ecco, io ti chiedo di spiegare anche agli altri ragazzi che cos'è il servizio civile e soprattutto l'arricchimento che tu ne hai tratto e perché secondo te un ragazzo dovrebbe partecipare al di là dell'aspetto meramente economico, insomma, diciamo così. Data la mia esperienza posso dire che ci si avvicina al servizio civile per due motivi. Il primo è la volontà di fare volontariato. Utilizzo proprio questa allitterazione perché il volontariato parte un po' da quella che è una voglia interna di voler fare qualcosa per l'altro. Ci si avvicina al servizio civile perché spesso nelle associazioni per le quali si presta il proprio servizio si viene a conoscenza della possibilità di dare una mano a quello che è lo Stato. L'altra scelta deriva magari semplicemente dal sentito dire o dal fatto che uno studente ha bisogno di una spinta, di un arricchimento, di una volontà di fare un qualcosa per l'altro e magari non ha mai avuto l'opportunità di mettersi alla prova in un certo senso. Grazie per la visione!